Abbiamo deciso, come sapete, di presentare questo progetto di legge per riportare all'Aquila la sede del Corpo Nazionale, come è giusto che fosse, perché egli appartiene per storia, per tradizione, una battaglia non di campanile, ma una battaglia di principio, di civiltà, perché il trasferimento della sede del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, la sede regionale a Pescara, è un qualcosa di grottesco, di immorale, veramente una cosa kafkiana che ha indignato l'Abruzzo intero. Ma il fatto nuovo che ci ha portato a fare una conferenza stampa è che da un'analisi, da fonti che ci arrivano sulla gestione economica del bilancio del CNSAS, si desume che si stia predisponendo un accantonamento di risorse per comprare la sede a Pescara, laddove il Comune dell'Aquila si era messo veramente a disposizione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, attraverso la disponibilità di una sede nell'aeroporto di Preturo proprio per andare in quello che doveva essere, secondo un dibattito che è emerso nel corso degli anni come vocazione dell'aeroporto di Preturo, come hub di protezione civile. Quindi questa cosa ci ha messo sull'allerta, ci ha allarmato, anche perché avevamo presentato un progetto di legge che sanciva per iscritto che la sede del Corpo Regionale del Soccorso Alpino fosse il capoluogo di regione. Un progetto di legge presentato dal sottoscritto come primo firmatario da Merico Di Benedetto, da Mario Quaglieri di Fratelli Italia, Simon Angelo Sante della Lega, Roberto Sant'Angelo, insomma che aveva visto tutto l'arco consigliare promotore e protagonista di questa volontà di riportare all'Aquila perché gli appartiene per storia, per tradizione, c'è anche una motivazione di carattere economico sia per la convenienza per il volo dell'elicottero sia soprattutto per un risparmio di fitti passivi. Se il Comune dell'Aquila mette a disposizione gratuitamente una sede dell'aeroporto di Preturo non si capisce per quale motivo il Presidente Perilli voglia acquistare, adesso pagare fitto e in futuro acquistare una sede nuova a Pescara. D'ora in avanti noi attenzioneremo molto questa attività e tutte le risultanze della nostra attenzione attraverso un'interlocuzione che avremo oramai diretta con il Presidente nazionale che sta a Milano e il Corpo Nazionale del Soccorso Appino andremo ad incidere su quello che deve essere secondo noi la gestione più corretta di queste risorse e che quindi grazie a una grande offerta di disponibilità del patrimonio pubblico che la storia assegna alla città capoluogo di regione si riescono a spendere al meglio i soldi dei contribuenti abruzzesi.